Ciò che non hanno il coraggio di fare realmente è alzare la testa e guardare davvero negli occhi chi sfrutta, proteggono chi sfrutta, perché sono al loro fianco e invece creano le divisioni in giù, nel basso, dove siamo noi. Ma l'unica differenza di divisione che noi vediamo è tra gli sfruttati e gli sfruttatori e con la dignità che abbiamo noi, noi siamo riusciti a fare quello che loro non sono mai riusciti a fare, ad alzare la testa e a guardare negli occhi chi ci comandava, chi ci sfruttava e a dirgli basta. Questo non hanno il coraggio di fare perché sono i loro traicoli, perché sono i loro poltrone per stare in Parlamento e sfruttare tutti, gli italiani e i migranti. Ed è così che noi continueremo a stare uniti, con la nostra forza, alzando il nostro sguardo, con la nostra dignità e guardandoli negli occhi a dirgli che sono loro che se ne devono andare, sono loro che devono andare via. Noi siamo qui, con la nostra dignità, con la nostra forza e con le nostre lotte, alle nostre compagnie, alzando la vittoria! Alzando la vittoria!